Il montaggio è sempre molto interessante. Adesso inquadro la maggiorina qua. Ecco qua, questa è la maggiorina. Questo è il quadrato alla maggiorina. Tre piante centrali, che poi si espandono su questo quadrato di 4 metri di lato. Adesso inquadro questa immagine. Questo qui è un filare di quadrati alla maggiorina. Il filare che va indietro, e qui ci sono le zone da passare, che sono 2 metri di larghezza circa. In quella fase storica, dove tutto era, si faceva il 2000, il primo è la maggiorina che era la maggiorina, tu no? Dimmi, dimmi. Dimmi tutto. Hai visto la famiglia a voi? Massimo, dai. No, no, no. Eh, ora, ora.